Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento che non è una domanda che mi viene fatta su Instagram, però è qualcosa che mi viene detto spesso, ok? Quindi ci tengo a farlo. Per cui, per prima cosa, se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram. Ah, lo dico in butta l'M. Metto un sacco di Q&A, un sacco di possibilità di farmi domande, eccetera, e rispondo a un sacco di cose. Quindi se vi interessano cose un po' più da nerd, sicuramente là troverete qualche risposta. E iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto. Ora, ci ho detto. Il punto è che molto spesso mi viene detto in risposta a qualche cosa che dico, a qualche domanda, eccetera, ma Ludo è stato visto che il volume è la determinante, la variabile più importante per la crescita. Uguale più volume, più crescita. Questa è una cosa che è stata vista. E proprio questo è stato visto che, evidenziando quello che la ricerca scientifica ha concluso negli ultimi anni, è la parte che... è un tarlo nell'orecchio, perché non è stato visto questo, realmente. In questo video voglio parlare di questo. Quindi del perché la ricerca scientifica in questo è fallace, in qualche modo, deve essere saputa interpretare, e purtroppo la maggior parte degli influencer che ci sono, soprattutto in Italia, mi spiace dirlo, ma è così, e soprattutto in Italia, non hanno la capacità di analisi di quelli che sono gli studi scientifici. Probabilmente non l'ho anch'io, però ho l'intelligenza per ascoltare chi l'ha. Quindi per ascoltare i ricercatori e i tecnici che hanno questa possibilità, che hanno questa capacità, e che spiegano realmente come stanno le cose per quanto riguarda il volume. Quindi cerchiamo di capire esattamente perché il volume non è la determinante, o quando il volume è la determinante principale per la crescita. Perché di nuovo non è stato visto che il volume è il fattore principale. Allora, sostanzialmente negli ultimi anni la ricerca scientifica, quindi tutto il mondo dell'evidence-based, ha condotto diversi studi che hanno concluso, fatti in maniera diversa, fatti in contesti diversi, eccetera, però hanno concluso generalmente che il volume è la determinante più importante per la crescita ipertrofica. Ossia più volume di allenamento, inteso come numero totale di ripetizioni a parità di carico, tonnellaggio, serie allenanti, quello che vi pare, però più volume si fa, più si cresce. Ok? E quindi da qua c'è stata questa spasmodica, diciamo, ricerca dell'aumentare il volume nelle proprie sessioni di allenamento, di ricercare sempre più volume, di impostare mesocicli su un aumento graduale del volume, perché il volume è quello che ci permette di crescere più, uguale, ossia più volume io faccio, più cresco. Ora, fermo restando che se ci seguite sulla nostra Academy, su Rhino Nation, o se seguite questo canale in generale, sapete che il volume effettivamente è una variabile che comporta una crescita, anzi, è effettivamente la variabile che da un punto di vista di impatto assoluto, chi segue l'Academy sa di che cosa sto parlando, ha l'impatto principale sulla crescita ipertrofica. Però, ci sono dei però, ossia bisogna capire come viene fatto questo volume e come viene impostato, ossia il contesto generale in cui si fa, perché non è l'unica cosa da vedere. Quindi, mesocicli che puntano all'aumento del volume, vanno benissimo, assolutamente. Aumentare il volume di allenamento, cercare di puntare sul volume, assolutamente. Non sto dicendo, in questo video, questa è una cosa super importante, non sto dicendo che bisogna allenarsi a basso volume, non sto dicendo che il volume non conta, non sto dicendo che bisogna fare heavy duty, non sto dicendo che bisogna fare monoserie allenanti, assolutamente no. Alla fine del video vedremo che più il volume è alto, ceteris paribus, o comunque impostando una certa base di lavoro, meglio è. E questo è sacrosanto e sicuro. Per cui cerchiamo di capire. Allora, il primo punto che vi pongo è che si parla dell'aumento di volume, ma non si parla del volume recuperabile. Questa è la cosa principale. Cioè, è vero che, generalmente, più volume faccio più cresco, però il volume deve essere recuperabile. Ossia, se io faccio 7 e riesco a recuperare da 7, crescerò 7. Rendiamola semplice. Se faccio 10 e riesco a recuperare da 10, crescerò di 10. Ma se io faccio 12 e riesco a recuperare di 10, crescerò soltanto di 10. Se io faccio 36 e riesco a recuperare solo di 10, non solo non crescerò di 36, ma non crescerò neanche di 10, perché probabilmente mi sto stressando così, tanto che crescerò di 7. Ok? Per cui, prima di tutto, bisogna capire qual è il nostro range di volume recuperabile. Io ho parlato spesso del fatto che l'ipertrofia è un risultato, è un risultante del rapporto tra stimolo, stimoli e recupero. Più lo stimolo è alto e la capacità di recupero è alta, più avremo un certo risultato. Più lo stimolo è basso e la capacità di recupero è bassa, meno risultato avremo. A parità di stimolo, se recupero meno avrò meno risultato, a parità di stimolo se recupero di più avrò probabilmente più risultato, o a parità di recupero se stimolo di più finché riesco a recuperare avrò più risultato. Ok? Quindi sono sempre questi due aspetti che devo vedere. Quanto stimolo? Sì. Perché in allenamento andare in palestra e starci le ore e sfondarmi sono bravi tutti. Parliamoci chiaro. Magari lo si riesce a fare una sola volta, però a fare tanto volume sono bravi tutti. Perché non c'è neanche quella richiesta di effort. Ma riuscire a recuperare è un altro paio di maniche. Ci sono tanti fattori che bisogna sempre fare in primis in palestra, ma anche extra palestra. Ok? Quindi prima cosa, volume recuperabile. E qual è il problema di questi studi? Che per come sono impostati si sta sempre in una sfera di volume recuperabile. Quindi non è mai stato sondato un volume non recuperabile. Perché di base i protocolli che vengono fatti in questi studi sono protocolli ridicoli per atleti. E questo lo vedremo tra un attimo. Sono protocolli molto molto semplici. Quindi passiamo da un protocollo super semplice a uno semplice. Ok, passiamo da un protocollo super super semplice a uno super semplice. Mettiamola così, ok? Quindi, sì, quello super semplice è meglio di quello super super semplice. Bene, ok? Abbiamo una chiara visione dell'ovvio. Ok, questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda i soggetti. Gli studi vengono fatti su soggetti allenati. Ora, quando voi andate a vedere esattamente non soltanto l'abstract, ma lo studio vero e proprio, quello che vedete è che nella maggior parte dei casi quando si parla in ricerca di soggetti, o almeno in queste ricerche, di soggetti allenati, si fa rinvento a normalmente studenti di college, ok? O personaggi, persone, soggetti un po' più grandi, comunque 18-35 anni, qualcosa del genere, che hanno 1-2 anni, se va bene, di anzianità, di allenamento in palestra alle spalle. Per farvi un esempio pratico, entrate in una palestra, prendete una persona, un ragazzo, che ha l'abbonamento da 1-2 anni e che viene 3-4 volte a settimana, quello è considerato il soggetto allenato. Ora, fatelo. Prendete un campione di 30 ragazzi, a caso, che trovate nella vostra palestra, che rispecchiano questi requisiti, ossia, c'hai l'abbonamento in una palestra da 1-2 anni? Sì. Ci vieni con frequenza, frequenza nel senso non tutte le settimane, magari ti prendi le ferie, ti prendi l'estate off, il periodo di Natale non vieni, eccetera. Ci vieni in palestra, ci stai con frequenza 3-4, 5 volte a settimana? Sì. Quella è il soggetto che dovrebbe rispecchiarvi, o dovrebbe rispecchiare di base il bodybuilder. Ok? Ora, non so voi, io sto qua in UK, pure qua in UK è così, però soprattutto in Italia, di media, e in America pure, perché siamo stati in America e non è come qua in UK, è un po' più commerciale la situazione, passatemi in termine, palestra di media, però di media non sono esattamente i soggetti che stanno allenarsi, ok? Sono ragazzi che stanno in palestra per fare attività fisica, ok? Non dico per passare il tempo, però di base, lavoricchiano e fanno. Quindi, già partendo dai soggetti, non sono dei soggetti rappresentativi, quindi capite bene che se prendete queste persone e li fate fare un po' più di lavoro rispetto a quello che già fanno, miglioreranno. E, di nuovo, la conclusione è che abbiamo una chiara visione dell'ovvio. Ora, il protocollo stesso di allenamento che viene sommistrato a queste persone negli studi sono protocolli che non sono protocolli da bodybuilding, sono protocolli ipertrofici di resistance training che stanno, diciamo, un passo fuori quella che è il lavoro di rehab, di riabilitazione. Ma perché questo, ragazzi? Perché gli studi sono fatti per leverage, la media delle persone che ci sono. Non sono studi che vogliono essere applicati, perché non avrebbero finanziamenti, non avrebbero fondi, non sono studi che vogliono essere applicati ai bodybuilder d'elite. Ok? Quindi loro cercano di basarsi su questa media. I protocolli di allenamento sono protocolli semplici, protocolli che hanno, comunque, di media un basso volume, richiedono un basso effort e quindi passi da fare, di nuovo, una cosa super semplice è una cosa semplice, una cosa super super semplice è una cosa super semplice. Quindi, di media sono due sessioni, tre sessioni di allenamento in cui si fa una leg extension, una pressa, un leg hard, hai fatto la sessione gambe. Si fanno due serie allenanti, un gruppo, tre serie allenanti, un gruppo, quattro serie allenanti, un altro gruppo e si vede che quelli che fanno 4-4-4 rispetto a quelli che fanno 2-2-2 hanno più risultati. Sì! Nel senso. Grazie. Ora, il problema principale però in questo, qua arriviamo al terzo punto che è proprio quello che manca, perché non è tanto il volume, perché se faccio due serie di leg extension, due di pressa e due di leg hard, potrei renderle, io personalmente, un po' di video avanzato più efficaci rispetto a un 4-4-4. Il 4-4-4 potrebbe essere troppo. Quale è determinante? È l'effort, la capacità di effort, di spremersi. Di nuovo, ritorniamo al concetto, immaginate quei soggetti a cui vi ho detto di pensare, quei ragazzi che è tornato in palestra, quanto effort riescono a creare. Non sono serie portate al cedimento, neanche lontanamente, tanto è vero che in molti studi ci sono dei podcast di Scott Stevenson che è un PhD, è un ricercatore, è lui che fa gli studi, quindi non è il primo scappato di casa che si trova in giro, come molti, purtroppo, influencer che stanno su YouTube. Lui stesso dice che sono stati fatti, lui stesso critica tutti questi studi per questa ragione, dice l'effort è un qualcosa che non è misurabile, perché che fai? dice la persona ma ti sei impegnato? Sì, certo che mi sono impegnato, mi sono allenato, ok, perfetto, allora l'effort è alto, no, non è così. Hanno fatto degli studi in cui, lui dice immaginate questo, in uno studio tu stai facendo l'express e c'è il ricercatore che ti guarda che sta così, ok? Oppure stai abbandonato per cavoli tuoi. Hanno fatto degli studi in cui c'era proattivamente una persona accanto che urlava alla persona, che lo spottava, sostanzialmente gli urlava come un matto, lo incitava e hanno visto, facendo questo studio per analizzare la capacità di effort e le RIR, quindi le reps in riservi, il buffer che c'era, che lo stesso soggetto da che pensava di avere un buffer 1, 2 o addirittura un cedimento tecnico, non ricordo, in realtà stava lavorando con un buffer di 16, cioè ha fatto 16 ripetizioni in più nella seconda serie in cui la persona lo spottava e lo incitava a fare. Quindi voi considerate che gli studi che leggete sono su persone che si stanno allenando con un buffer 16 di media, un buffer 15. Quindi capite anche in questo caso quando vedete la persona che vi dice no perché guardate questo studio, questo studio, questo studio, si vede che il volume è la determinante principale, è un volume fatto fare, è uno studio fatto fare su soggetti che non vi rappresentano, che si allenano in maniera che non vi rappresenta e cui voi non vi allenate auspicabilmente se seguite questo canale, o meglio io non mi sento rappresentato da questi studi, in contesti che non mi rappresentano e questo è l'ultimo punto di cui voglio parlare, l'ambiente. Gli studi, ci sono diverse tipologie di studi in cui l'ambiente è più o meno controllato. Che cosa vuol dire? Che un conto è che io dico a queste persone, prendo 30 soggetti e gli dico ragazzi venite in palestra tre volte a settimana vi studiamo, quattro volte a settimana vi studiamo, cinque volte vi studiamo. Un altro conto è che prendo questi 30 soggetti e gli dico ragazzi vivete come il grande fratello, vi schiaffiamo in una casa, vediamo tutto quello che fate, misuriamo quello che mangiate, quanto bevete, quanto vi allenate, se prendete steroidi, quanto cagate pure e in base a questo abbiamo un ambiente controllato, cioè consideriamo tutte le variabili. Sono due cose completamente diverse perché pensateci, se io non ho uno studio controllato, come faccio a sapere il mio campione di soggetti che magari sono quelli che si allenano ad alto volume e si mangiano di più? E se ci pensate, se prendo dei soggetti e li alleno a basso volume e un altro campione di soggetti li alleno ad alto volume, è molto probabile che quelli che sono allenati ad alto volume mangeranno di più perché avranno più fame, quindi anche una miglior crescita muscolare può essere dettata dal fatto che mangiano di più. Altro problema dell'ambiente è che gli studi sono fatti nel breve periodo e i metodi che utilizzano per misurare quello che è la massa magra, ecco ragazzi, come massa magra c'è anche la massa magra è considerata come fat free mass, quindi la massa non grassa. Se alleno un soggetto ad alto volume che probabilmente mangia di più, ma lasciamola stare da parte un attimo, anche a parità di cibo che mangiano, questo soggetto andrà da inevitabilmente a captare più glicogeno perché c'è un aumento della glicogeno sintasi, quindi molto probabilmente è un soggetto che avrà più glicogeno muscolare per cui se io vado ad analizzare i miglioramenti che hanno questi soggetti nel breve periodo perché stiamo parlando di studi che non durano anni ma durano bene che va un mese, allora in questo caso vedrò un aumento della massa muscolare ma è un aumento molto probabilmente dettato dal maggior accumulo di glicogeno muscolare e mi interessa sapere che cosa succede in anni di lavoro con un determinato protocollo che devono essere periodizzati eccetera eccetera. Ora, per tutti questi fattori logicamente quello che vi sto dicendo è che gli studi che voi leggete gli studi che vengono avanzati gli studi che trovate in letteratura non sono rappresentativi in alcun modo di quello che un bodybuilder fa e dovrebbe fare e non possono esserlo non possono esserlo perché non possono esserlo? Primo problema trovate un gruppo di bodybuilder di atleti e convinceteli a fare uno studio convinceteli a mangiare come volete voi convinceteli ad allenarsi come volete voi convinceteli a vivere come volete voi dicendogli che un gruppo dovrà allenarsi in un modo che dovrebbe risultare più ipertrofico e un gruppo invece se ti dice sfiga e finisci in quello dovrebbe allenarsi o comunque comportarsi in modo che risulta poco ipertrofico convincete queste persone a farlo un bodybuilder ti dice più puoi pagare quanto ti pare ma io non sto un anno a lavorare in modo poco profigo butto un anno di tempo non esiste pagami quanto vuoi ma non esiste o comunque dovresti pagarmi una quantità di soldi disumana e questo è l'altro problema per far durare uno studio anni o comunque tanto tempo e far in qualche modo farlo in ambiente controllato su un largo campione di soggetti che devono essere bodybuilder agonisti quindi devono essere un soggetto rappresentativo e deve essere un soggetto che quindi viene pagato normalmente di più di quattro disgraziati del college che magari se gli paghi la pizza da Papa Jones sono contenti ecco ci vogliono dei soldi che voi non avete idea cioè stiamo parlando di arrivare proprio a miliardi ok di finanziamenti che devono essere finanziati da qualcuno e poi oltre a questo c'è il discorso dell'utilizzo o meno di pets che è molto complesso perché quando parli di bodybuilding o sport agonistico c'è di mezzo questo fattore che può o meno essere dichiarato perché io non posso utilizzare dei protocolli di pets su soggetti perché sostanzialmente li procuro dei danni non posso una ricerca scientifica utilizzare delle dosi di anabolizzanti in maniera sovrafisiologica è difficile far dichiarare ai soggetti che cosa fanno soprattutto in paesi in cui la maggior parte dei paesi è illegale l'utilizzo quindi ti sto chiedendo di dichiarare in uno studio magari anche finanziato da fondi pubblici che tu stai facendo qualcosa di illegale quindi capite ci sono tutte queste cose che rendono molto difficile il bodybuilding non può essere studiato quello che gli studi ci possono dare è riflettere su alcune cose a posteriori sappiamo che il volume è importante sappiamo che è un fattore molto importante di crescita sappiamo che se riusciamo a portarlo al limite c'è terisparibus quindi con una buona intensità di lavoro con una buona qualità di lavoro più volume abbiamo più cresciamo quindi di base sappiamo che è una variabile su cui puntare dopo che abbiamo fatto un certo lavoro prima ossia dopo che l'effort è elevato la forma di esecuzione è buona abbiamo una buona frequenza di allenamento abbiamo una buona connessione muscolo mentre muscolo tutti questi fattori abbiamo dei buoni carichi che solleviamo quando portiamo in alto il volume finché recuperiamo più volume meglio è questo è una cosa che sappiamo e le evidenze scientifiche ci suggeriscono questi come anche sappiamo tanto che su un soggetto per l'appunto neofita che va in palestra in maniera occasionale che non si spreme tanto e non ha intenzione di farlo allora aumentare il volume ci dà dei buoni guadagni quindi se siete dei personal trainer dei coach e avete un soggetto che non vuole diventare un bodybuilder ma vuole fare fitness in generale avere dei buoni guadagni muscolari allora fargli fare più volume di allenamento magari puntare su recuperi incompleti lavori più densi per accumulare tonnellaggio è la strada migliore non sta tanto tempo in palestra non si scoccia gli fate far offare qualcosa che gli piace non si affatica troppo e tende a fare tanto volume ha una miglior percezione e avrà più risultati quindi a tutti gli influencer gli youtuber che vi pongono davanti queste evidenze scientifiche dicendo io faccio tanto volume ecco voi state ottenendo risultati e quindi voi siete rappresentati da quel gruppo dei soggetti quindi siete al pari di qualsiasi ragazzetto che si è iscritto in palestra da uno o due anni fondamentalmente il bodybuilding agonistico è un altro e l'unico studio a cui potete far riferimento è prendere andare a vedere i top ten dell'olimpia visto che c'è stato da poco in questo momento e vedere come questi atleti non hanno ottenuto i primi risultati ma sono riusciti su una base di risultati già consolidata cioè atleti professionisti al top level questa è la tenda sono riusciti da questa base a ottenere ulteriori risultati forma maniacale esecuzione carichi effort anzi effort e poi carichi queste sono le basi metodi completamente diversi ma queste sono le basi quindi riflettiamo su questo piuttosto ragazzi per questo video è tutto ditemi la vostra scrivete qua sotto esperienze personali e tutto il resto però di nuovo ci sta che molte persone diranno sono cresciuto con più volume ho abbandonato l'intensità del cedimento e sono migliorato va benissimo io personalmente se dovessi prepararmi per un 100 metri non riuscirei a sopportare il protocollo di Bolt e dovrei fare un protocollo più soft perché? non perché il protocollo di Bolt non sia il migliore per raggiungere il top dei risultati ma perché io non sono portato per fare i 100 metri quindi di nuovo se crescete di più con l'alto volume se crescete di più con il buffer se crescete di più basandovi su questi studi scientifici allora vuol dire che quella è la strada che dovete mantenere semplicemente perché non siete fatti per il bodybuilding delete e va benissimo così non è una cosa sbagliata io non sono fatto per tantissime cose probabilmente neanche per il bodybuilding delete so lavorare molto bene in palestra sul parco è diversa la questione però è assolutamente importante che nessuno si senta attaccato da questo punto di vista in questi video voglio semplicemente dire qual è quello che dovreste provare perché è quello che vi potrebbe portare al massimo dei risultati poi se riuscite a gestirlo o meno è un altro paio di maniche quindi dite tranquillamente la vostra esperienza qualsiasi cosa sono a disposizione sarò ben lieto di rispondere noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti